E' uscito il 22 novembre il libro di Yomi Eini dal titolo Le donne tentatrici della Bibbia, un testo destinato a far discutere. E c'erano poeti, scrittori, sacerdoti, tutti al ristorante Calamares di Haifa per assistere alla presentazione di un testo unico che indaga sul potere delle donne nell'Antico Testamento, un fascino a volte malizioso, ma non per questo negativo. Al contrario, la storia della salvezza è piena di queste storie, perché anche attraverso il peccato impariamo a diventare uomini giusti davanti a Dio, perché dove c'è il peccato c'è la conversione, c'è sempre un ritorno a Dio. E' un argomento che non riguarda soli i cristiani, ma che anzi interroga anche i musulmani, come l'editore del libro, il signor Abbasi, consapevole di essere di fronte a un'opera unica. Io do sempre fiducia agli scrittori che hanno un messaggio da portare, anche se so che molti lettori ci resteranno male. Penso che questo libro, Donne tentatrici nella Bibbia, farà molto parlare di sé, specialmente tra noi musulmani che consideriamo la Bibbia un testo sacro. Rispettiamo i profeti come il re Davide, Salomone, e li chiamiamo profeti. Le conosciamo i 25 profeti della Bibbia. È una sfida quella a cui vado incontro, specialmente con alcune frange religiose, ma credo che la libertà di espressione sia fondamentale e voglio garantirla. Anche quando si tratta di analizzare la figura della donna nella Bibbia, la sua bellezza tentatrice è il fascino che ha ammagliato re e profeti. Il poeta George Farah cita alcuni esempi. A partire da Adamo e Deva, e come lo abbia provocato con il frutto proibito, fino alle figlie di Lut, passando da Ruth, Rachele, Rahab, Dalla con Sansone, come queste donne hanno potuto provocare gli uomini fino a raggiungere i loro interessi e i desideri e per i loro scopi, a volte per motivi politici, altre volte per provocare guerre o perche. E certamente si torna a parlare di una figura spesso dimenticata, ma essenziale, nella storia dell'uomo. Un tema, quello della donna, che spalanca e aiuta, spesso, a capire anche il ruolo dell'uomo. Sicuramente questo è un progetto culturale che aiuta ad aprire le finestre, spalanca le porte per dare opportunità alla gente studiosa, sia a livello di pensiero che a livello di popolo. Per noi che viviamo in questo contesto è più che giusto spalancare le porte della cultura araba e a quella ebraica. Questo libro colma un vuoto e dà una possibilità al lettore di entrare nelle pagine della Torah, che in qualche modo combaciano con le donne del Vangelo, della Bibbia e del Corano.